Musica Oggi ho faticato un po' e infatti allo scollinamento del sasso sono arrivata con Costanza Martinelli e abbiamo deciso dove vai te, dove vado io e poi alla fine io ho deciso di fare il medio perché effettivamente ero veramente stanca e ho lasciato Costanza sul lungo però è stata una bella gara devo ringraziare come al solito Emiliano che ogni volta mi dà una mano però è stata molto molto bella poi siamo stati graziati dal tempo quindi col sole è tutto più bello Fare da cavaliere a Emanuele è un piacere, è una vera regina Sì è un piacere perché poi tra l'altro si sta imparando veramente a correre bene a limare le ruote, a prendere posizioni ha capito che prendere almeno la prima salita in testa è importantissimo sono contento, l'ho vista oggi, ha dato veramente il massimo sono contento così, due vittorie d'anno morale diciamo che per il proseguo ci butteremo credo sui percorsi lunghi per fare ritmo in previsioni delle corse importanti Volevo fare i complimenti all'organizzazione a Marco Ciccolini ci siamo veramente divertiti bella manifestazione viva il ciclismo